Sto facendo questo video perchè Ehehehehehehehe Dai che fai dei E' veramente una manna dal cielo Ieri Voi Mi avete donato Un totale di 15.000 euro Sono veramente contento Innanzitutto di aver ricevuto Una somma del genere Nell'arco di solo 5.500 Ore Non può che rendermi felice Ho deciso che da oggi in poi Appuntamento fisso in diretta Ognuno di domenica alle 9 in punto Non me lo sarai mai aspettato Guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Dalle 9 e mezza Alle 9 e mezza Ma sono altrettanto contento Nel notare che c'è qualcuno a cui frega Veramente Di me Di me Tutto lo che faccio Di me Tutto lo che faccio Di me Ai mizza Nessuno dona Un sincero ringraziamento A tutti i miei fan Mi è appena arrivato il secondo monitor E mi deve ancora arrivare invece Il green screen con le luci Per poter leggere le donazioni I messaggi e iscrizioni In tempo reale Quindi senza dover Alt tabacche Alt tabacche Poi tra l'altro Con Dead by Daylight Causa appunto Il blog Del bug Che alcuni di voi Hanno visto Ieri sera Fa divertire migliaia di persone Ho dovuto prima Depurarmi La mia live Di ieri sera È stato qualcosa di Ehm I Ehm Pietro smusi Serata Parapampamparava Smusi smusi Serata Parapapapareve La possibilità Da 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 Wait a minute What is he doing Is him screwing something Sono 18G Quattro ore Insomma Si sentono Devo renderizzare Caricare Rendicare Carizzare Ho dovuto prima Depurarmi Degli haters Che hanno rosicato Come dei castori Subscribe